3. Comunque per tutta la giornata di ieri non mi ha detto neppure una parola intorno al gioco e in generale ha evitato di parlare con me. Il suo abituale modo di fare con me non è cambiato. Una assoluta non curanza nel suo modo di trattarmi durante i nostri incontri è addirittura qualcosa di sprezzante e di ostile nell'atteggiamento. In genere essa non cerca affatto di nascondere la sua repulsione per me. Lo vedo benissimo. Nonostante tutto ciò essa non mi nasconde neppure che io le sono in qualche modo necessario e che per qualche ragione mi tiene da conto. Tra di noi si sono stabiliti certi strani rapporti sotto molti aspetti per me incomprensibili specialmente tenendo conto del suo orgoglio e della sua alterigia verso tutti. Lei per esempio sa benissimo che io la amo e la follia e mi permette perfino di parlarle della mia passione per lei. Ma naturalmente non potrebbe dimostrarmi meglio il suo disprezzo per me che con questo permesso di parlarle senza ostacoli e senza limiti del mio amore. Così facendo è come se mi dicesse ho tanta poca considerazione per i tuoi sentimenti che per me è assolutamente indifferente qualsiasi cosa tu dica o senta per me. quanto alle sue faccende personali già da prima lei ne parlava molto con me ma mai con completa sincerità. Non soltanto ma nella non curanza che lei mi dimostrava c'erano per esempio delle raffinatezze di questo genere. Essa sapeva supponiamo che io ero a conoscenza di una certa circostanza della sua vita o di qualcosa che le inquietava fortemente. Era perfino capace di raccontarmi qualcosa delle circostanze che la interessavano se era necessario impiegarmi in qualche modo per le sue faccende come se io fossi il suo schiavo o per delle commissioni. Ma mi raccontava sempre esattamente quel tanto che era necessario sapere a una persona che veniva impiegata per svolgere delle commissioni. E anche se mi rimaneva nascosta l'intera trama degli avvenimenti, anche se lei vedeva che io mi tormentavo e mi inquietavo per i suoi stessi tormenti e inquietudini, ebbene non si degnava mai di tranquillizzarmi pienamente con amichevole franchezza. Sebbene a mio modo di vedere lei avrebbe dovuto essere franca con me, dal momento che non di rado si serviva di me per faccende non soltanto complicate ma anche pericolose. Ma per lei valeva forse la pena di preoccuparsi dei miei sentimenti? Oppure del fatto che anch'io ero inquieto per lei e che magari mi inquietavo e mi tormentavo per le sue preoccupazioni e i suoi insuccessi anche tre volte più di lei? Già da tre settimane io ero a conoscenza della sua intenzione di giocare alla roulette. Polina, anzi, mi aveva avvertito che io avrei dovuto giocare al suo posto, già che per lei sarebbe stato sconveniente giocare alla roulette. Dal suo tono ho capito subito che è assillata da qualche grave preoccupazione e non semplicemente dal desiderio di guadagnare un po' di soldi. Che gliene importa a lei del denaro in sé stesso? C'è certo sotto qualche scopo delle particolari circostanze che io posso solo cercare di indovinare ma che per ora non conosco. Naturalmente la condizione di umiliante schiavitù in cui lei mi tiene potrebbe anche darmi, e spesso anzi me la dà, la possibilità di interrogare direttamente lei stessa in proposito, senza far tante cerimonie. Dal momento che ai suoi occhi sono soltanto uno schiavo e una nullità, lei non avrebbe motivo di offendersi della mia sfacciata curiosità. Ma il fatto è che lei, pur permettendomi di farle delle domande, non vi risponde. Anzi, certe volte non le sente nemmeno. Ecco come stanno le cose tra noi. Durante la giornata di ieri si è parlato molto tra noi del telegramma che è stato inviato già quattro giorni fa a Pietroburgo e al quale non è giunta risposta. Il generale è evidentemente preoccupato e appare pensieroso, ma è preoccupato anche il francese. Ieri, per esempio, dopo pranzo hanno parlato tra loro a lungo e seriamente. Il francese ha con tutti noi un modo di fare straordinariamente altezzoso e non curante. È proprio vero il proverbio. Dagli un dito e lui si prenderà un braccio. Perfino con Polina lui si dimostra altezzoso fino alla villania. Del resto partecipa volentieri alle passeggiate di tutta la committiva nel parco intorno al casino, alle cavalcate e alle escursioni fuori città. Da un pezzo mi sono note certe circostanze che legano il francese al generale. In Russia avevano deciso di impiantare una fabbrica in società. Non so se il progetto sia andato in fumo o se invece ne parlino ancora tra loro. Per giunta sono venuto per caso a conoscenza di un segreto di famiglia. L'anno scorso il francese ha effettivamente tolto dagli impici il generale, prestandogli 30.000 rubli per coprire un ammanco della cassa governativa al momento dell'accessione dell'incarico. E così naturalmente il generale ora si trova stretto nella sua morsa. Ma adesso, proprio adesso, il ruolo principale in tutta la storia tocca comunque a Mademoiselle Blanche e in questo sono sicuro di non smagliarmi. Ma chi è questa Mademoiselle Blanche? Qui da noi si dice che sia una distinta signora francese che possiede un'enorme fortuna ed è qui accompagnata dalla madre. Si sa anche che è parente del nostro marchese, ma molto alla lontana, una specie di cugina o biscugina. Si dice anche che prima della mia partenza per Parigi il francese e Mademoiselle Blanche si trattassero molto più cerimoniosamente, intrattenessero dei rapporti, per così dire su un piano più distinto, più raffinato. Mentre ora la loro conoscenza, amicizia o parentela, hanno assunto un aspetto più grossolano e più intimo. Sembrerebbe che la nostra situazione appaia a loro così cattiva che essi non ritengono più necessario stare a fare tante cerimonie e dissimulare davanti a noi. Ancora l'altro giorno ho notato come Mr. Astley osservava Mademoiselle Blanche e la sua mammina. Mi è parso che le conoscesse. Mi è parso anzi che anche il nostro francese avessi conosciuto già da prima Mr. Astley. Del resto Mr. Astley è talmente timido, silenzioso e riservato che c'è ben poco da sperare da quella parte. I panni sudici si lavano in casa. Perlomeno il francese lo saluta appena e non lo guarda quasi. Evidentemente dunque non ne ha paura. Questo si può ancora capire. Ma perché anche Mademoiselle Blanche non lo degna di un'occhiata? Tanto più che ieri il marchese, parlando del più e del meno, si è lasciato improvvisamente sfuggire, non ricordo più a che proposito, che Mr. Astley è enormemente ricco e che lui lo sa bene. Almeno per questo Mademoiselle Blanche dovrebbe ben guardarlo. è chiaro che il generale è piuttosto preoccupato. Si può ben capire cosa significherebbe per lui in questo momento un telegramma che gli annunciasse la morte della zietta. Sebbene fossi quasi sicuro che Polina evitava di parlare con me per un suo qualche scopo preciso, ho assunto anch'io un'aria fredda e indifferente. Pensavo sempre che da un momento all'altro sarebbe stata lei ad avvicinarmi, si. In compenso, ieri e oggi ho rivolto prevalentemente la mia attenzione a Mademoiselle Blanche. Povero generale è irreparabilmente perduto. Innamorarsi a 55 anni di una passione così violenta è naturalmente una disgrazie. Aggiungeteci la sua vedovanza, i figli, le sostanze completamente rovinate, i debiti e infine la donna di cui gli era capitato di innamorarsi. Mademoiselle Blanche è molto bella, ma non so se qualcuno mi capirà se dirò che ha uno di quei visi che possono incutere spavento. Perlomeno io ho sempre avuto paura di donne come queste. Avrà probabilmente 25 anni, è alta e ha spalle larghe e rotonde. Il collo e il seno sono splendidi. La sua pelle è di un colore olivastro. I capelli sono neri come inchiostro di china e ne ha una tale quantità che basterebbero per due teste. Le pupille sono nere e il bianco dell'occhio quasi giallognolo. Lo sguardo sfrontato, i denti bianchissimi, le labbra sempre coperte di rossetto. Ha sempre addosso un profumo di muschio. Si veste in modo ricco e vistoso, ma con molto gusto. I piedi e le mani sono meravigliosi. La sua voce è un forte contralto. Qualche volta scoppia a ridere mostrando tutti i suoi denti, ma in genere ha un atteggiamento silenzioso e sfrontato, perlomeno in presenza di Polina e di Maria Filippovna. A proposito, corre una strana voce e Maria Filippovna tornerebbe in Russia. Mi sembra che Mademoiselle Blanche sia assolutamente priva di istruzione. Forse non è neppure intelligente, ma in compenso è un tipo furbo e sospettoso. Mi sembra anche che la sua vita non sia stata vuota di avventure. Se debbo proprio dire tutto, potrebbe darsi che il Marchese non sia affatto suo parente e che la pretesa madre non sia affatto sua madre. Ma ci sono testimonianze sicure che a Berlino, dove ci siamo incontrati con loro, lei e la madre godevano di certe conoscenze influenti. Per ciò che riguarda il Marchese stesso, per quanto fino a oggi io nutra dei sospetti sul fatto che sia veramente un Marchese, tuttavia la sua appartenenza alla buona società, tanto da noi, per esempio a Mosca quanto qua e là in Germania, è fuor di dubbio. Non so cosa sia lui in Francia, ma si dice che abbia un castello. Pensavo che nelle due settimane della mia assenza molte cose sarebbero successe e tuttavia non so ancora con sicurezza se tra Mademoiselle Blanche e il generale sia stato detto qualcosa di decisivo. in generale, ora come ora, tutto dipende dalla nostra situazione e cioè dal fatto se il generale sia o no in grado di mostrare loro molto denaro. Se, per esempio, arrivasse la notizia che la nonnina non è morta, sono sicuro che Mademoiselle Blanche scomparirebbe immediatamente. Certe volte mi meraviglio e mi viene da ridere, vedendo che razza di intrigante sono diventato io stesso. Oh, che fastidio mi dà tutto questo. Con che piacere manderei al diavolo tutto e tutti. Ma è forse possibile che lasci Polina? Posso forse non restare qui a spiare tutto ciò che la riguarda? Naturalmente lo spionaggio è una faccenda volgare, ma a me che me ne importa? Ieri e oggi mi ha incuriosito anche Mr. Astley. Sì, io sono convinto che è innamorato di Polina. È divertente e ridicolo allo stesso tempo osservare quante cose può talora esprimere lo sguardo di un uomo riservato e pudibondo, in modo addirittura morboso, che sia stato ferito dall'arco dell'amore. E cioè proprio nel momento in cui naturalmente si preferirebbe sprofondare sottoterra, piuttosto che lasciarsi sfuggire o esprimere qualcosa con la parola o con lo sguardo. Mr. Astley si incontra spesso con noi durante la passeggiata. Allora si toglie rispettosamente il cappello e prosegue la sua strada, benché naturalmente muoia dalla voglia di unirsi a noi. Anche se lo si invita, lui rifiuta subito. Nei luoghi di ricreazione, ai giardini, al concerto o davanti alla fontana, lui si ferma immancabilmente a poca distanza dalla panchina che noi occupiamo o dal luogo dove noi ci troviamo. E così nel parco, nei boschi o sullo Schlangenberg, basta appena alzare lo sguardo e guardarsi intorno per scorgere immancabilmente Mr. Astley che spunta da dietro a un cespuglio o passeggia sul sentiero lì accanto. Mi sembra che lui cerchi l'occasione di parlare con me in particolare. Stamattina ci siamo incontrati e abbiamo scambiato due parole. Certe volte lui parla in maniera assolutamente sconnessa. Prima ancora di dirmi buongiorno, ecco che di punto in bianco si mette a dire eh, Mademoiselle Blanche, io ne ho viste parecchie di donne come Mademoiselle Blanche. E ha taciuto, guardandomi con aria significativa. Che cosa avesse voluto dire con questo io non lo so, già che alla mia domanda su cosa volesse dire, lui ha scosso il capo, ha sorriso furbescamente e ha aggiunto, solo così. A Mademoiselle Pauline piacciono molto i fiori. Non lo so, non ne ho la minima idea, ho risposto. Com'è? Lei non sa neppure questo. Ha esclamato lui con la massima meraviglia. Non lo so, non me ne sono affatto accorto, ho ripetuto io ridendo. Questo mi fa venire una certa idea. Quindi ha scosso il capo e ha proseguito per la sua strada. Aveva comunque un'aria soddisfatta. Tra di noi parliamo in un pessimo francese. 4. Oggi è stata una giornata ridicola, schifosa, assurda. Ora sono le undici di notte. Me ne sto nel mio camerino e ricordo. È cominciata che al mattino ho dovuto comunque recarmi alla roulette a giocare per Polina Alexandrovna. Ho preso tutti e 160 i suoi federici, ma a due condizioni. Primo, che non avrei giocato a metà con lei. E se avessi vinto?